E' un settore che da anni è entrato nelle mire di imprenditori privati interessati a gestire per intero il sistema di illuminazione pubblica comunale. Nel luglio dello scorso anno l'ex giunta messinese aprì ufficialmente a questa soluzione disponendo la creazione di un'unità di progetto interno al comune con il compito di seguire l'iter del project financing privato presentato due anni fa dal raggruppamento composto da una azienda piemontese dalla società gelese Cogge Impianti, una scelta che invece non sembra nelle corde della gestione commissariale del municipio. Il commissario Rosario Arena sta lavorando insieme all'amministratore delegato della municipalizzata Gianfranco Fidone per potenziare la struttura della Gelas. Spetterà alla società in auso occuparsi dell'illuminazione pubblica in città che conta su un totale di oltre 10.000 punti luce. Una qualsiasi azienda privata spiega Arena magari per 5-10 anni coprirà i costi ma incasserà tutti i profitti. Io non sono venuto qui a fare il pulcinella di turno. Continua magari per favorire chi che sia. Una volontà piuttosto chiara quella del commissario che chiude la porta ai privati. Porta che la scorsa estate era stata riaperta dall'ex giunta nonostante al momento dell'insediamento in municipio l'allora grillino Domenico Messinese avesse revocato l'affidamento completato dal suo predecessore Angelo Fasulo. Nell'agosto di quattro anni fa quell'appalto venne revocato su richiesta dell'ex assessore lavori pubblici Nuccio Di Paola dopo l'indagine giudiziaria che coinvolse i vertici della CPL Concordia inchiesta che agevolò il compito dato che l'amministrazione grillina non vedeva di buon occhio l'ingresso dei privati. Nel raggruppamento che aveva ottenuto l'affidamento ultradecennale c'era proprio la coge impianti che ha poi riproposto il project financing in accoppiata con l'azienda piemontese. In municipio almeno per ora non sembra esserci spazio invece per i privati.